una delle una delle dei sistemi insomma come dire per rubare i soldi alle persone peraltro è quello il fishing e allora c'è una bella classifichina che dice che il 30 adesso si legge male qua dovuto il 31 per cento del fishing di questo tipo è attenzione controlla subito la tua password poi subito dopo c'è guarda che in realtà le ferie sono cambiate e quindi uno ci clicca sopra poi altre legate al covid quindi guarda che adesso è cambiata la policy bisogna cambiate le regole eccetera quello del dress code non è molto diffuso in italia che in italia non c'è questa questa mania del dress code in inghilterra ad esempio si è molto diffusa cioè qualunque come dire luogo qualunque posto dove devi andare la prima domanda che devi fare ve lo dico se per caso sarete mai invitati a qualcosa è qual è il dress code perché qua innanzitutto ci sono tre tipi di dress code adesso vi faccio un inciso che c'entra poco ma è cultura magari vi può essere utile tre tipi di dress code principali ad esempio in italia l'abito elegante è quello che chiamiamo smoking ok quindi uno dice vado di smoking e sono al massimo e di solito si usa capodanno perché in italia difficilmente no e qua ad esempio in inghilterra ci sono tre c'è lo smoking c'è il morning dress quello che vedete al royal ascot con la coda dietro ma quello non con la coda lunga quello un po' grigione un po' schifosone bruttissimo e poi c'è il white tie che in italia si chiama il tight che qua si chiama white tie così come lo smoking qua si chiama black tie e in america si chiama taxido mamma mia che fatica allora insomma proprio per questo dov'è qua il click eccolo si utilizza proprio attenzione che non è più dress code black tie è diventato white tie attenzione non è più come si dice non è più oh my gosh vabbè non è più insomma easy ma eccetera eccetera sono pochi ci sono club dove molti club qua club vuol dire insomma inteso come luoghi dove si va bene un caffè eccetera dove ci vuole una membership cioè devi essere membro per andare dove senza cravatta you don't entry proprio zero cioè non puoi no è pieno di posti così e allora londra bisogna ricordarsi quando si va in giro per i posti il dress code vabbè detto questo poi attenzione non c'è internet ti abbiamo disattivato la mail ti è successo questo questo quest'altro e queste sono quelle più diffuse però bisogna tenere gli occhi aperti perché guardate adesso una sentenza recentissima nel torinese la vittima di una truffa online ha perso 7.500 euro però i due di giudici gli hanno dato torto non so se la ragione ha torto però hanno detto sostanzialmente che è lui che è stato negligente perché perché ha cliccato a caso e effettivamente sta andando sempre più così perché se io mi butto in mezzo alla strada senza guardare oggi e mi schiacciano mi pare di ricordare che in italia tende ad aver sempre ragione il pedone in inghilterra ve lo dico anche quando verrete a londra occhio è perché se passate attraversate fuori dalla striscia pedonale vi stirano e hanno ragione loro finito il problema no è pericoloso perché infatti non so se vi è capitato con i bus a londra che vi passano praticamente qua tutta una parte rasata qua e del bus che passa e lui se ne frega diceva se finisce sotto scusori dove stare attento tu ed è abbastanza riconosciuta questa cosa diceva beh effettivamente dai bisogna guardare si sa che passa alle macchine è un po più nuovo il mondo del del digitale quindi è un po più facile che ci si dimentichi e non si guardi troppo e quindi attention come